Rovesciate il regime. È il drammatico appello dal carcere di Giulia Timoshenko. Ieri ne è stato impedito di incontrare i leader dell'opposizione e oggi filtra un video, girato forse con un cellulare, nel quale l'ex premier ucraina parla per circa due minuti e invita gli elettori a recarsi in massa le urne, pur dicendo che l'esito elettorale è sindora truccato. Qualunque cosa dica la legge sui diritti del popolo, alla mafia di Yanukovych questo non importa nulla, dice. Voglio rivolgermi a tutti. Se non vi rendete conto che i criminali governano l'Ucraina, allora nulla vi proteggerà da quello che sta accadendo ora nel paese, sotto la guida di Yanukovych. Giulia Timoshenko è stata condannata a sette anni di carcere per abuso di potere, una sentenza considerata in Occidente come una vendetta politica da parte di Yanukovych, che era ieri impegnato nella commemorazione del massacro nazista di Baviyar. Le elezioni si terranno a fine ottobre. Il partito di Yanukovych potrebbe riuscire a mantenere una maggioranza, ma è inseguito a corta distanza nei sondaggi da una coalizione di cui fa parte anche il partito della Timoshenko.